Sì, mi hanno raccontato che in fondo a questa strada Si trova una casa dalla quale provengono strani rumori Dicono che sia infestata da anime vaganti, spiriti o roba simile Mi hanno detto che si trova alle spalle di un'antica casa rosa Non farti venire strane idee, non devi mai andare in quella casa Sì Sto parlando seriamente, promettimelo Te lo prometto dai, andiamo Sì 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.